Un caro saluto da Mario Giulianci. Che tempo farà per Santo Stefano il 26 dicembre? Beh, sull'Italia domina ancora l'alta pressione nordafricana per cui ovviamente ci dobbiamo aspettare bel tempo e temperature per lo più al di sopra della media, soprattutto al centro nord. Ma andiamo con ordine, come potete vedere direi che non vi sono piogge, né sono previste nevicate, debole gelate nel primo mattino sul Piemonte dell'Ovest della Lombardia. Le temperature massime saranno intorno a 10-12 gradi sul nord Italia nella regione del medio adriatico, 13-15 gradi sul resto dell'Italia. Quindi come vedete temperature gradevere, non certo di sapore invernale. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giulianci. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app, perché è semplicissimo da usare. Su, provate.